I piatti continuano Complimenti Martini, questa volta, hai detto bene A tempo vediamo il supercorso Stiamo in Repubblica, sta prendendo il sopravvento della Salkus su Atelari Si arraggia tutte le basioni impossibili Allungando, sono ormai 50 metri di palinaggio su Atelari Grazie 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 La tira in salida. Si? Che pendenza della porta fuori? Come rotatorio lì, via Modena quella bumba. La basta là, la ruta. La bumba, la bumba, la bumba. La bumba, la bumba. La bumba, la bumba. La bumba, la ultima. Dopo, qua la tira da ultimo. La bumba, la bumba, la bumba. La bumba, la bumba, la bumba. La bumba, la bumba. La bumba. Sì, sì. Vai fuori. Ora Samuele Fabri sta finandosi ai 5.500 metri, e poi mancano i 5.500 metri. Devono arrivare adesso? Devono arrivare al passaggio degli ultimi 500 metri. Samuele Fabri è arrivato ai 5.500 metri della sua corsa. Non conosci il silenzio, non sei più libero. Non conosci i podisti di ferrare? E' proprio perché è chiuso. Il picchetto lo avete. Ti fanno un abbraccio. Che ero uno secondo me correva quando correvo io. Deve essere quinto o sesto. Ma Yugo! Ah no no! Bravo bravo dai! Lasciate stare la cameraman. Se tu continui a giocare, ma io l'avrei sentito. E allora? Che sta arrivando? E' proprio l'arrivo per Samuele Fabri della Sarkus. E' un amico che metti in dove chiamiamo il carro metà? Eccolo. Sta arrivando. Complimenti naturalmente a Samuele Fabri. Ciao! Qui qui! Qui qui! Fuori fuori! Fuori fuori! Fuori fuori! Fuori fuori! Fuori fuori! Buongiorno! Eccolo ok! Fuori fuori! Fuori fuori! Fuori fuori! Eccolo! Ci vediamo! Ciao ciao! Bravo bravo! Fermo! Ora vi faccio un po' Avanzi avanzi, avanzi, bravo Fede, bravo Linna, bravo bravo, bravo Stefano, Luca, arriva, arriva, bravo Luca, altra doppia, altra doppia, che c'è da dire, fermo, fermo, fuori, bravo, 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 fermo, fermo, fermo. Dai Matteo! Dai Matteo! La tajazò Matteo! Ma visto? Dai Matteo! La tajazò, lo viste? Bravo, bravo! Evo Marco! Bravo! Dai Grodini! Però questo qua, non? E tu cosa hai contato? Tu cosa hai contato? Hai contato di te? Questo arriva, sì! Vabbè, ci viene superattacolo perché ho venti casi. Bravo Adriogine! Avanti! Bravo! Avanti! Bravo Donato! Bravo, bravi! Bravo Bossa! Bravo bravo! Vado, bravo. Bravo! Voi che siete bravi un altro giro? Avete vinto un altro giro? Bravo, bravo, bravo Riccardo! Bravo, bravo, bravo! Dai Andre che è finita! Fermi, fermi! Bravo Giorgio, bravo! Fermo, fermo! Bravo! Bravo Gimmi! Bravissimo Gimmi! Bravo Gimmi! Ce n'è un altro di giro! Bravo Gimmi! Antonio, bravo! Bravo, bravo! Dai, Gopo, dai, dai! Dai, Moreno! Dai! Grazie a tutti!